Per raggiungere la maturità ecclesiale occorre mantenere la freschezza del carisma, rispettare la libertà delle persone e cercare sempre la comunione. La conversione deve essere missionaria. Così oggi Papa Francesco incontrando i partecipanti al III Congresso Mondiale dei Movimenti Ecclesiali e delle Nuove Comunità. Dinanzi a un'umanità ferita, il Pontefice ha invitato tutti a non cedere alla tentazione della chiusura, perché se forme e metodi sono difesi per se stessi diventano ideologici, lontani dalla realtà che è in continua evoluzione. La comunione a proseguito consiste anche nell'affrontare insieme e uniti le questioni più importanti come la vita, la famiglia, la pace, la lotta alla povertà in tutte le sue forme, la libertà religiosa e di educazione. Infine un pensiero ai giovani. Un progresso morale o spirituale ottenuto facendo leva sull'immaturità della gente è un successo apparente, destinato a naufragare. Pochi, ma andando sempre, senza cercare lo spettacolo. L'educazione cristiana invece richiede un accompagnamento paziente, che sa attendere i tempi di ciascuno, come fa con ognuno di noi il Signore. Ma il Signore ha pazienza, eh? Ha pazienza con noi. La pazienza è la sola via per amare davvero e portare le persone a una relazione sincera col Signore. La pazienza è la sola via per amare davvero e portare il Signore.